costa? 120 mila euro. Porca vacca oh, una bestia, 120 mila euro. Qua si vuole la C, la B. Ah, la C, non va bene la B. Sì, perché supera i 15-15 vitali, le faccio i 45. Che bello oh, una bestia, guarda che roba, fantastico. Troppo bella, un bel camperozzone così, finché lascio casa è tutto. Ciao, grazie.